Stavo pensando agli artisti di Dalila Cucco. Stavo pensando agli artisti, che poi ad essere sincera tutti i giorni penso agli artisti. Andate a teatro gente, andate a sostenere il bello che questa Italia dovrebbe esserne colma. Andate a vedere quello per cui viviamo e per cui scappiamo, quello per cui nessuno chiede di avere una tredicesima, ma un pubblico in piedi che applaude. Che noi respiriamo di questo, lo sapete? Momenti e sogni per lo più infranti, ma poi sempre ricostruiti. No, forse non lo sapete, ma siamo noi a fare il lavoro sporco, ve lo dico io. Siamo noi a credere, a rinunciare. Siamo noi a non avere certezze, ma siamo sempre noi a darvi l'unica cosa per cui vale la pena essere. Quindi pensavo, non importa che sia un dipinto, una poesia, uno show in centro al Duomo, una canzone, un monologo, una commedia o un musical, non datelo per scontato, non pensate che sia dovuto. Che se un giorno non dovesse esserci più, credetemi, l'uomo non sarebbe più uomo. Per favore, andate a teatro.